ciao a tutti ciao a tutti è arrivata la conferma che aspettavamo e io voglio fare quest'altro video perché ho detto una stronzata nel video di prima e adesso lo cambio vinci ci è andato a vedere ma che cazzo di immagini ha visto perché il mondo deportivo e perciò devo farlo subito sto video appena sputtanato tutti tutto lo studio di sport mediaset tutto che stasera ha fatto il record di stronzate il record di cacate perché ne hanno detta una più di una più di una pressa all'altra parte che definire bravo dunfris per un fallo di mano è già fa schifo di per sé e maura ha detto una stronzata del genere già definire una vabbè se quella diciamo che una furbata dai a quello stavamo arrivando a quello se lo faceva tonali quella roba là a predicello vabbè ma non sviamo il discorso perché il mondo deportivo ha pubblicato un video che non riesco a scaricare dove si vede il tocco di dunfris ma si vedeva anche a occhio nudo perciò io ho detto mandarlo a rivedere ho sbagliato nel video precedente infatti questa è una correzione è andata a vedere ma che immagini ha visto cioè la stronzata di candreva allo stadium adesso il mondo deportivo che sputtana le immagini var candreva che non avevano le immagini e e la spiegazione a cazzo di rocchi che ha detto che quelle immagini non le avevano questa immagine del mondo deportivo l'abitro bigic non le ha viste allora se se cominciamo a dubitare pure delle immagini cioè se io devo avere dubbi anche sulle immagini cioè di per dire che cazzo di immagini ne hanno fatto vedere cioè se io devo cominciare a pensare già il var contro il milano è una munnezza ma se già devo pensare che tutti gli episodi che mi fischiano contro possono avere delle immagini che loro non hanno visto il var non serve più a un cazzo cioè o gli facciamo vedere tutte le immagini o se no togliamolo io sono non favorevole a toglierlo ma se fanno minchiate pure con le immagini e non gli fanno vedere le immagini e vediamo le munnezze come quella di danfris come quella di candreva e altro schifo allora il var non serve più perché qui si sputtana e si fanno cazzate pure con l'aiuto tecnologico è grave è grave cioè quello che stiamo vedendo con il mondo deportivo che ti sputtana o altre televisioni o altre immagini che ti sputtanano quello che l'arbitro vede alla review ragazzi è grave cioè stiamo arrivando al grave perché adesso non sono più tranquillo né per domani col celsi né sabato con la juve perché poi ognuno a questo punto si mette le immagini proprie e siamo finiti siamo finiti è grave perché ogni 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 episodio cerchiamo altre immagini siamo finiti siamo finiti cioè a questo punto o miglioriamo o vediamo che cazzo di immagini deve vedere l'arbitro perché fanno questo errore secondo me per mancanza di tempo perché sono quella la review ci deve stare una nottata in vera e le partite non finiscono più è questo per la fretta li mandano delle immagini di merda oppure delle immagini che non sono esaustive o peggio ancora la cazzo di cane perché l'unica spiegazione è quella per la fretta non gli mandiamo tutte le telecamere perché non c'è tempo di fargliele vedere tutte ma se le selezioniamo la frontale la dietro la dedicata forse è una roba più intelligente cioè mandiamo delle immagini decenti a quei poveri cristi che vanno alla review perché se no si vede immondizie che andreva che non viene visto e quello che ha fatto il mondo deportivo purtroppo il video non lo riesco a scaricare ma ormai l'ha fatto vedere anche sport media sputtana completamente quello che ha detto cesari quello che ha detto quell'indegno di mauro che ha detto che ha fatto che danfris ha fatto una cosa buona complimenti a danfris questo abbiamo sentito stasera l'apoteosi dello schifo difendere chi ha fatto un fallo di mano chi ha fatto un fallo di mano nettissimo che va a modificare il girone che rischia di farli passare che rischia di farli resuscitare che quanto inter e juventus sono morte arrivano favore arbitrali che sia in italia in europa in coppa italia a schifo e sempre in minan ci va di mezzo aperta e chiusa parentesi ma ripetisco io adesso ho paura io adesso ho paura perché non sono più sicuro delle immagini se puntualmente vengono sputtanate perché adesso ogni errore io penserò che immagini hanno visto che cosa gli hanno visto che dedicata c'è perché al prossimo errore pro juve pro inter magari escono le immagini di milan channel o di altri emittenti che sputtano un eventuale aiuto addio non vinciamo niente cioè io adesso ho i brividi sia per domani col celsi ma sabato con la juve allora fermiamo tutto rivediamo il var non giochiamo perché tanto ormai è munnezza e sistemiamo sta grana perché così non si può andare avanti perché si rimette il dubbio si rimettono i problemi si rimettono le polemiche perché così non può essere perché adesso ho paura che al mio milano gli fanno vincere niente con immagini a cazzo e l'inter vince alla seconda stella aiuta in musico viceversa non mi fanno vincere niente ho paura ho paura non mi fido più manco del var a sto punto se devo se devo aver paura delle immagini dedicate o delle immagini che gli arbitri non hanno visto che dobbiamo stabilire che immagini deve vedere quel povero cristo la frontale la 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 opposta e la dedicata cioè le deve vedere il più possibile perché oggi ha una vista da svista colossale che qualcuno ha anche difeso detto che danfris ha fatto una roba buona cioè che danfris è stato un grande e tonale è un coglione quando fa le cose furbe a questo siamo arrivati e quella di danfris a sto punto è una furbata se non gliel'hanno fischiata è una furbata e come tonali siamo sullo stesso siamo sullo stesso campo perché danfris ha ha fregato è un pallo di mano che non hanno visto come una rimessa laterale sbagliata allora siamo su quel cioè l'errore c'è per tutti ma se cominciamo a non essere sicuri manco delle immagini io ho paura io ho paura io ho paura adesso ho paura adesso ho paura perché quello che ha fatto vedere il mondo deportivo che ha sputtanato tutti perché si vede il tocco di danfris se l'arbitro ce l'ha che si va sul dischetto fa il gol dell'ex l'inter rimane a zero rimane rimane ultima nel girone e attenzione perché poi facciamo quello schifo di benasser e l'inter passa in coppa italia contro il minan la juve magari mi vince con un'immondizia la partita di domenica dove di sabato dove già sto in braccia a cristo per gli infortunati magari domani mi succede una cosa del genere a caluno in area di rigore al celsi danno rigore sempre io ci vado di mezzo è quello che mi fa girare i coglioni poi sempre il minan paga per tutti e io non vinco un cazzo a persi chiusa parentesi cioè adesso essendo più chiaro io ho paura perché non mi fido neanche delle immagini non mi fido più due episodi che andreva e questo non c'è due senza tre e il quarto viene da sé sempre pro inter e pro juve sempre contro di me andranno a finire perché adesso ogni episodio io voglio la controprova poi se la controprova mi sputtana però io adesso mi chiederò ogni episodio che immagini ha visto perché oggi è stato chiaro chiaro a parte che era una cosa che si vedeva forse anche a occhio nudo ma se tu gli mandi le immagini del mondo deportivo che sì che sia Lewandowski vanno sul dischetto e l'inter non vince o almeno pareggia cioè adesso adesso rivediamo le immagini del VAR io ho paura ho paura e riparisco questo è un sentimento che adesso ho per le prossime partite del Milan perché con la Juve ho i brividi con la Juve ho i brividi col Chelsea non ne parliamo con l'Inter in Coppa Italia non ne parliamo non ne parliamo non ne parliamo nemmeno se mai succederà col prossimo derby non ne parliamo che se da se Caluru tocca la palla in quel modo a me mi fischiano rigore se le Ava a Napoli a me il rigore non lo fischiano ma lasciamo stare cioè io ho paura ma anche per gli altri devono avere paura perché adesso non siamo più sicuri manco delle immagini manco delle immagini poi lui fermiamo tutto e sistemiamo sta grana sistemiamo sta grana perché grave perché grave è grave è grave quello che è successo stasera è grave soprattutto in relazione a quello che è successo con Candreva che è una telecamera alta lo ha visto e Rocchi dice quelle immagini non le abbiamo mai avute allora che cazzo di immagini guardano che immagini di immagini in merda guardano e da quelle immagini si decidono dei futuri delle stagioni e non va bene bisogna decidere che immagini quel povero Cristo deve vedere e le deve vedere tutte o il più possibile ma il problema è il problema di tempo è il problema di tempo è quello perché per la fretta lì si mandano delle immagini di cazzo e a sto punto decide a cazzo decide a cazzo che è il problema di tempo 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 e quindi ho paura sistemiamo il VAR sistemiamo le immagini ecco ho trovato il titolo per questo video hashtag sistemiamo le immagini hashtag errori gravi qui rischiamo lo schifo perché nel tennis l'instant replay nel basket funziona bene è possibile che nel calcio si deve vedere questa immondizia si deve vedere tanta disorganizzazione tanto schifo io non mi fido più non mi fido più manco del VAR che io amo perché ha risolto tanto schifo pro juve pro inter nonostante questo gli hanno fatto vincere uno scudetto una coppa italia però almeno mi hanno fatto vincere uno scudetto a me se non manco quello vincevo manco quello vincevo e continuavo col sistema moggi ma mi fermo qua ma riparisco io adesso ho paura ho paura perché non si è più chiari su che cazzo di immagini quei poveri cristi vedono non si è più chiari io ho detto che ho sbagliato a dire nel video precedente che non l'avevano mandato al VAR ma l'hanno mandato a cazzo l'hanno mandato a cazzo hanno mandato a cazzo perché il mondo deportivo l'ha sputtanati compreso lo studio di Mediaset dove sono state dette un sacco di stronzate e un sacco di falsità ma io chiudo il video hashtag io ho paura hashtag sistemiamo il VAR hashtag sistemiamo le immagini ciao a tutti